Siamo con un servizio, dobbiamo correre veloci, buonasera Buonasera, buonasera a tutti quanti voi Abbiamo costruito un servizio, Presidente, perché insomma qui la falestra ne ha fatte tante Prima si è laureato con 110 lodi in economia e commercio, poi ha fatto l'arbitro, poi ha fatto il dirigente, poi ha fatto l'opinionista in tv Sono affatti diverse, ricordiamola del servizio Un passato da arbitro internazionale e un presente da presidente In mezzo una laurea in economia con 110 lodi, amori patinati e una vicenda dai contorni delicati Nel 99 gli assegnano il premio come miglior giovane arbitro debuttante E da lì, con il suo fischietto sempre rigorosamente blu, dirige 135 partite in serie A Quattro finali di Coppa Italia e diverse classiche Classico così come il suo look, che lo accompagna, questo sì, costante negli anni Capelli pettinati indietro e all'urda maccio italiano Ha fatto capitolare diverse bellezze di casa nostra Arbitro, pignonista televisivo e ora dirigente Gianluca Paparesta, figlio d'arte È balzato agli onori delle cronache in più di un'occasione e non solo per vicende calcistiche Nell'agosto 2009, infatti, è nominato assessore con delega al mezzogiorno dal sindaco di Bari Tra le sue mansioni principali, l'incarico dei rapporti internazionali, del marketing territoriale e istituzionale Un rapporto continuo, questo con la comunità locale e le istituzioni Che sarà anche il perno fondante dell'incarico che ricopre nel 2016 Quando diventa club manager del Bari Ma che lascia poi per divergenze societarie Società che dopo il suo fallimento rifondì il maggio scorso Grazie all'aiuto economico di diversi investitori stessi Un passato da arbitro, opinionista tv, politico, dirigente e un presente da presidente Cosa ci riserverà il futuro? Allora, vista Gianluca Paparezza che la corrona sonora è la prima cosa bella di Nicola di Bari Vorrei sapere qual è la prima cosa bella? Cioè se è appunto il commentatore tv, l'arbitro, il politico o il presidente del Bari? Credo che ogni momento della vita sia bello viverlo al meglio Sicuramente in questo momento fare il presidente è il massimo che ci possa essere Poi fare il presidente della squadra della propria città La squadra per cui si è sempre tifato anche perché da arbitro non si poteva fare diversamente E quindi è chiaro che per me vedere la maglia del Bari e poi pensare un giorno di avere un ruolo all'interno della società Era già una gratificazione Adesso è arrivata perché ho cercato in tutte le maniere di poter salvare questa squadra, questa società Anche perché c'è una città dietro che spingeva per salvare questa società E quindi è un momento per me, diciamo, la cosa più bella Ecco, Matarese, pardon, tutte le volte ti cito Matarese perché Matarese è stato talmente tanti anni La storia del Bari che tutte le volte associo il Bari a Matarese Quindi ci devo mettere un po' di tempo Però Paparese è stato al centro di tutta una serie di manovre Prima per esempio quella di cedere la società di Matarese a qualcuno Però poi si diceva che i Matarese volevano così tanto che era impossibile trovare questo qualcuno E Paparese si è adoperato per fare da intermediario Come mai non si è riuscito a trovare qualcuno che tirasse fuori tanti soldi E si è dovuto arrivare al fallimento Sicuramente i Matarese hanno contraddistinto la storia del Bari per tanti anni Nel bene e nel male Sicuramente ci sono stati momenti di esaltazione Che probabilmente vengono dimenticati anche più facilmente Rispetto a momenti di delusione e di amarezza Che invece rimangono impresse nella memoria dei tanti tifosi Legati a delusioni e a momenti particolari Io ho cercato nel periodo in cui ho lavorato con loro Di portare possibili acquirenti ad acquistare la società Però poi mi sono reso conto che la società era difficile da poter essere ceduta in quel momento Perché aveva una massa di vittoria considerevole E tra l'altro da definirsi Credo che in questo momento la stiamo ancora definendo Proprio per questo mi sono messo fuori Ho chiesto alla famiglia Matarese che mi aveva chiamato Di cercare di valutare bene tutto E forse sarebbe stato il caso di fare un passo indietro Con un gesto d'amore verso la città Chiedendo l'autofallimento E accendendo così la possibilità di rilevarla da un altro gruppo Con un ale visto che le norme ce lo consentivano Devo dire che il gesto di Matarese è stato un gesto molto sofferto Però ha consentito a questa squadra di rimanere in Serie B E anzi di sfiorare addirittura la Serie A Finché le norme lo concedono Era un peccato non sfruttare questa possibilità Visto che penso che ci sarebbe stata una fine veramente difficile Ecco Presidente, ci sono state sentenze, assoluzioni, patteggiamenti Situazione e vicenda intricatissime Chi è oggi Paparesta rispetto a quello che è stato prima un grande arbitro Perché ricordiamo che Paparesta è stato arbitro internazionale E poi un arbitro di fatto esautorato da Calciopoli Sì, quella è una parentesi che purtroppo è una ferita che non credo che si potrà mai rimarginare Perché quando si fa qualcosa a cui si tiene tanto E su cui si punta tanto E si fanno tanti sacrifici per poter arrivare a determinati livelli Vedere che possa svanire in maniera, diciamo, a mio parere ingiusta Chiaramente è una ferita che comunque rimane Anche perché ci sarebbero stati ancora anni da poter fare sul campo Ma come avete detto voi nel servizio Non bisogna mai fermarsi Non bisogna arrendersi E cercare di lottare anche in altri settori Per cercare comunque di fare il proprio meglio Le possibilità che ci sono Di poterle cavalcare E poi soprattutto, devo dire, si ha la fortuna Quando si ha la fortuna di poter rimanere nell'ambiente in cui si è nati Quello del calcio Anche con ruoli diversi Mi fa sempre piacere Quindi sia prima come opinionista Che adesso come dirigente e presidente Anche se mi diventa difficile dire presidente Però sicuramente è un momento di grande gratificazione Ci fermiamo, abbiamo la pubblicità ma torniamo tra due minuti Torna da noi salutando il presidente Matarese Che ringraziamo Sempre Matarese saluto E di nuovo l'ho detto Presidente Paparesta Presidente Paparesta Ma presidente Paparesta Va bene Mi dispiace, va bene Ci vediamo presto Grazie presidente Paparesta E un grande bocca al lupo per il futuro Arrivederci Arrivederci